Grazie presidente. Ministro, lei ha iniziato il discorso omaggiando le vittime, omaggio al quale noi ci siamo uniti, però crediamo che il vero omaggio lo si faccia lavorando seriamente affinché queste cose non accadano più. Le ha anche detto che questi assassini, questi teoristi sparano nel mucchio, no? Ed è vero, il più delle volte. Però io ho dei dubbi che questa volta sia proprio così, nel senso che lei è componente del CISL, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica, ha ricordato lei stesso, nostro cooperante italiano Cesare Tavella, che fu raggiunto da una moto e trivellato alle spalle nel settembre 2015. Due mesi dopo fu ferito un missionario italiano, eravamo sempre lì in Bangladesh. Bene, ci furono delle rivendicazioni ISIS, le autorità del posto smentirono, dissero che non c'erano legami con questi estremisti, però l'intelligence statunitense sconsigliò a cittadini americani di restare in quei territori. Noi questo non l'abbiamo fatto assolutamente. Mi sono chiesto anche con altri colleghi come mai non si è fatto una valutazione diversa, tipo strategico, e mettere dei nostri centri ISIS proprio lì in Bangladesh. Questo non è stato fatto, Ministro, è un componente del CISL. Io ho pensato molto a questi nuovi italiani morti, come ad altri. Spesso l'opinione pubblica viene disorientata anche da sue parole, nel senso ci colpiscono perché siamo occidentali, poi siamo stati smentiti il giorno dopo, dove in Iraq ci sono stati 250 morti fatti a brandelli da Daesh. Ho pensato a questi nuovi morti sgozzati con macete, con lame, c'è stata una partita dell'Italia il giorno dopo, l'opinione pubblica un po' frastornata. Secondo me non ci siamo soffermati molto, però ora è il momento di fare i fatti e non le parole. I fatti sono individuare, perché lo si può fare, quelli che sono gli Stati che finanziano direttamente e indirettamente le reti terroristiche. Bisogna avere il coraggio di rimettere in discussione ogni tipo di rapporto commerciale, economico, diplomatico con questi Paesi. Noi purtroppo dobbiamo invece vedere un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che nel gennaio 2016 va là in Arabia Saudita a stringere mani con re e principi. E addirittura da una parte abbiamo nuove morti sgozzati, poi usciamo sui giornali perché chi l'accompagna si prende quasi a schiaffi a capelli per De Rolex. Questa è l'immagine che dà questo governo italiano. È un'immagine da lacrime, da lacrime, Ministro. Io certe volte quasi la invidio, lei ha la forza di venire qui a parlarci di Loporto, di Valeria Solesina. Ancora una volta il nostro Premier ha ricordato solo la Solesina e noi il nostro Loporto, ammazzato per la stessa guerra asimmetrica da fuoco amico americano. Queste morti ce le scordiamo, ce le scordiamo sempre, davvero non capisco il perché. Poi ci troviamo in aula a discutere magari del DL antiterrorismo e siamo tutti d'accordo, siete tutti d'accordo a spartirsi le poltrone tra servizi, intelligence, ma... Colleghi, per favore, per favore, cosa fate per la lotta al terrorismo? Onorevole Rossi, la richiamo, onorevole Rossi, la richiamo per la prima volta. Non è la commemorazione. Per favore, colleghi, per favore. È politica. Bene, ecco, grazie. Prego. Ma ci dice questo artista, Presidente. Vada la democrazia. Presidente, dicevo, ci troviamo, socialmente, intervento politico-tecnico, se è possibile, non è una commemorazione, è una risposta al Ministro, un'informativa. E dicevo, nel DL antiterrorismo, poi siamo costretti a subire come soluzione una blacklist che blocca a siti, chissà perché, poi qualche mese dopo viene arrestato il Mullah Cracker che aveva creato un'università virtuale per un'indagine del Ross precedente. Oppure aumentiamo le pene a questi signori che sono pronti a mettersi delle bombe, magari a farsi esplodere la metro. Queste sono, come dire, le idee del nostro Governo. Al posto invece di spingere aveva avuto il semestre europeo, un Renzi, di spingere per un casa, il Comitato d'Analisi Strategica, un casa europeo, di creare una banca condivisa di dati dove tutti i governi, l'intelligence, possano mettere insieme alcune informazioni importanti, più psicologi, più analisti, meno direttori e burocrati e funzionari. Ma soprattutto stop a questi flussi di denaro. Proprio ieri c'è stato il rapporto Shilkot uscito in Gran Bretagna che accusa palesemente l'ex leader Tony Blair di aver mentito sulle armi di distruzione di masse in Iraq, di aver dunque causato l'intervento militare che ha distrutto ovviamente l'Iraq dando il via a guerre tra Sunniti e Shiti e aver favorito ovviamente la formazione di Daesh dell'Isis, i cui leader erano detenuti ad Abu Ghraib e in altri prigioni. È inutile ricordare, lo facciamo spesso, il pasticcio fatto in Libia. Si recupero il tempo che mi hanno tolto e concludo, Presidente. L'ha già recuperato, non è inutile dimenticare cosa abbiamo combinato in Libia ed oggi per trovare un governo di stabilità nazionale siamo costretti a trattare con le milizie. Ministro, bisogna colpire chi arma, chi finanzia a destra questi vigliacchi terroristi. Il governo italiano può farlo da oggi stesso, lo faccia, ma per fare questo serve la volontà politica di non avere più come alleati chi arma e finanzia il terrorismo. Ministro, fatelo, basta commemorare i morti, fatelo.